Nel video di oggi dobbiamo parlare di un argomento importantissimo per chiunque voglia essere un investitore serio sotto il mio video su paypal qualcuno ha scritto non investendoci rischi di perdere una grossa opportunità e questa è una frase estremamente pericolosa per un investitore perché l'obiettivo di un investitore non è quello di trovare un'opportunità imperdibile il suo obiettivo è quello di trovare un'opportunità in cui non possa perdere la prima regola di warren buffett e non perdere soldi a primo impatto sembra una cavoliata però bisogna pensarci un attimino anche a me ci ha voluto un bel po di tempo per capire quella frase perché certe volte warren buffett parla in maniera un pochino criptica non dice o meglio non spiega le cose in maniera molto dettagliata ma quello che quella frase vuol dire quella regola vuol dire è che quando investiamo dobbiamo investire soltanto se siamo sicuri di non poter perdere soldi se c'è il rischio la potenzialità di perdere denaro col nostro investimento dobbiamo lasciarlo perdere nel caso di paypal ad esempio secondo me c'è una possibilità di perdere soldi nel caso in cui la situazione economica vada a peggiorare la società si trova in difficoltà riscuotere i propri prestiti effettuati perciò a mio avviso quando ho pubblicato il video non era il momento di investire in paypal non ancora ma sto andando fuori tema lo scopo di questo video è quello di dirvi che non dovete rincorrere tutte le opportunità che trovate di opportunità ce ne sono sempre ce ne saranno sempre però alcune sono più rischiose di altre quindi voi dovrete sempre cercare di tenervi lontano da queste situazioni rischiose in passato ho fatto l'errore di seguire questa opportunità e molto spesso è andata male e ho perso un sacco di soldi perciò state molto attenti perché per diventare un grande investitore probabilmente la cosa più importante è non perdere soldi perché pensateci se prendete le botte pesanti del 50 60 70 80 per cento andate veramente a devastare il vostro portafoglio il vostro patrimonio invece piuttosto facendo in certi casi dei gain un po inferiori però con meno rischio il vostro portafoglio si evolverà in maniera più lineare senza beccare delle botte devastanti quindi state tranquilli che le opportunità arriveranno non abbiate fretta e non impuntatevi su certe super mega opportunità che sembrano poter dare ritorni magnifici ma concentratevi piuttosto su quali sono i rischi su cosa potrebbe andare storto e su quanti soldi potreste perdere per questo video è tutto se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale e di condividere il video con tutte le persone che conoscete fino al prossimo video buoni investimenti a tutti ciao grazie a tutti